Credo che sia giusto aver individuato come uno degli elementi che dovrà caratterizzare la nostra legislatura proprio la ricerca e l'innovazione, credo che sia il futuro al quale noi dobbiamo guardare, del quale noi siamo già dentro, del quale noi dobbiamo fare di tutto per essere sempre più coinvolti. Senza innovazione e senza ricerca non andiamo da nessuna parte. Abbiamo sicuramente la volontà di improntare la legislazione a questo tema che riteniamo fondamentale. Già in passato si sono investiti molti soldi, dobbiamo proseguire in questa direzione e investire una cifra che sia compatibile con le principali regioni a livello mondiale perché è nella ricerca e nell'innovazione il futuro della nostra economia. Stiamo preparando un bando importante su innovazione e ricerca per novembre, saranno 50 milioni di euro a fondo perso per aziende che insieme a università, centri di ricerca propongono progetti di innovazione e creano anche sviluppo e occupazione.